De Rossi S Romer Football, come gioca la Roma? 4-0 al Brighton ed è un risultato non importante di più, non tanto la vittoria che mi aspettavo e pretendevo. Quanto l'esito così pesante, c'è un 4-0 netto subito e un risultato sacro. C'è la Roma che batte 4-0 il Brighton di De Zerbi e tanta roba, è vero che il Brighton viene da un periodo un po' buio, viene da una serie di infortuni che stanno condizionando quel percorso perché mancano dei giocatori importanti, ma rimane sempre la squadra ostica. E la Roma l'ha preparata benissimo, De Rossi ha preparato una partita veramente a botta e risposta su tutti i punti. De Rossi molto strategico, tattico, una Roma bellissima che gioca, vince, fa divertire, dilaga, difesa solida, non subiamo gol, si fila ancora decisivo in alcune circostanze, la Roma che si diverte. Quanto mi è mancato questo spirito? È vero, quando le cose vanno bene è più facile parlare in questo modo. Però le cose vanno bene anche perché sei tu che ti metti in condizioni di farlo andare bene. La Roma che gioca bene, Di Bala è tornato il Di Bala di una volta, Lukaku ha segnato e fa bene così. Selic che sembra il Maicon dei ben tempi, cioè Selic veramente ha ragione De Rossi. Ora, io non penso che Selic sia un grande giocatore, penso però che Selic sia un grande professionista, perché sta sempre al posto suo quando viene capato in causa, bene o male, perché spesso e volentieri gioca male Selic, però mi hanno riconosciuto i meriti, è vero che nell'ultima partita sta entrando con più testa, sta giocando bene. Oggi per me ha fatto un partitone Selic, Spinazzola anche, Spinazzola ha fatto un partitone, ha azzeccato tutti i cross. C'è una Roma che sembra reinata, io a questo punto penso che più sul piano tattico, perché poi De Rossi ha intervinto molto sul piano tattico, stravolgendo completamente le cose. Ci sono un grande lavoro mentale e psicologico, perché spediamo che Mourinho ha tanti pregi ma anche tanti rifetti. Io sapete quanta stima ho di Mourinho, però non si può dire che Mourinho faccia bene alla testa dei giocatori, perché secondo me spesso alcuni li mette anche in una sorta di disagio psicologico, ora non mi venisse a denunciare per queste accuse e calugne, però il concetto che voglio esprimere è chiaro, è evidente, perché Mourinho spesso andava a sminuire quello che era il valore della squadra, quando De Rossi è bravo a fare il contrario e poi questo si rifletta anche in campo con la lucidità, con la spensieratezza, con la brillantezza che hanno in campo i calciatori, con un parese che ha preso le redini della squadra in maniera maestosa a centrocampo. Quindi una Roma che al momento funziona su tutti gli aspetti, quindi bene così, continuiamo così e taglia Roma.